ecco il link al mio canale twitch e alla mia pagina instagram per seguire gli aggiornamenti benvenuto a guardiano protezzi tu leader abilità attiva del leader dai la cazza al leader nemico ok però voglio entrare in partita quanto siamo e io sono sarebbe nella squadra vincente sarebbe ma sarebbe potenzialmente nella squadra vincente quanto può essere bella quella mappa qua fiume mi riporta in mente tantissimi bellissimi ricordi nelle giornate passate a giocare a modalità orda di geos 2 soprattutto in questa mappa io e i miei amici ci barricavamo dentro una delle casette e poi sbadabam con il divertimento ma stavamo vincendo porca la miseria ovviamente io sono livello 4 andiamo contro livello 85 e ha vinto lo sciame perfetto prossimo round ecco qua dai let's go win brothers prendi a calci tutti quelli che vuoi non c'è problema perché io passo qua sotto che me tritano subito dal coso punto di domanda perché voglio andare a prendere air boom e shotte vieni qua bello de mamma beautiful andiamo saverio legni facciamo il giro giusto che noi si deve ammazzare il leader questa modalità guardiano se si ammazza il leader gli si bloccano le rigenerazioni così proprio c'è gente là sopra ah però mi è venuto su da sotto perfetto ma posso rigenerare noi abbiamo uno fermo cristoforo colombo a con calma con calma a distrutto demolito non devono ammazzare rigenerazioni scambiate oddio siamo partiti siamo giusti è questa prima partita che vado a registrare ci sarà una volta ogni tot in in cambiamento in rotazione con tetris e forza horizon 4 questo gears qua siamo con modalità saverio legni esattamente lui del new day qua sopra c'è qualcosa non lo so hanno cambiato gli spawn hanno cambiato qualcosa non si capisce bene ammazzate tutti chi è che ha parlato non sono stato io a parlare aiuto cambiamè sono pronta mi piazzerebbe anche a me essere pronte vedo anch'io il nemico aiuto aiuto ristronzi con lo gnasher mamma mia che stress non sono mai stato un giocatore accanito mamma mia però se ci abbiamo in squadra gli 84esimo livello fermi ti credo che perdiamo insomma è stato un accanito del multiplayer di gear for war però porca miseria ci sono tantissime armi perché dobbiamo sempre fare sto coso col pompa perché va così non ti preoccupare adesso vinceremo andiamo a vincere una una un round un round un'uzzisione mi va bene tutto un'uzzisione una kill cos'è questa la boltok aspetta mi cambia ok sei tutta mia però che mi hanno preso lo gnasher maledetto hanno già ucciso il leader no dai non ditemi queste cose va che fa soltanto le robe col gnasher dammi l'assist ah no che la motosega si attiva così maledetto no io ho troppo vicino le generazioni scambiate ok abbiamo ucciso questo dammi almeno l'assist fammi felicio io volerei essere bambino felicio hanno scambiato il pawn cagato addosso ne mancano soltanto tre dai che possiamo andare a vincere un round Cristoforo Colombo qua nella mia mappa preferita per Orda per Orda come il mio leader è morto guarda come avanza senza paura questo beh se può cadere da sopra mi apre in due ah c'è il tripode la minigun questo che si ammazza da solo giustamente c'è quello in squadra nostra che è fermo oh cacchio era che mi ha distrutto ovviamente questo bello tranquillo che si gode la bella vita aspettando di essere spappolato un piccolo contrattempo i COG non si piegano né si spezzano andiamo belli vittoriosi verso la prossima sconfitta lo pioio boomshot minchia poi ho sbloccato la medaglia primo caduto dai abbiamo sempre guadagnato chi cazzo è il leader il leader il leader eccolo ma io non lo sapevo mica che si poteva cadere da qua mamma mia la mira di quelle in cortale si fuga è tempo di fuggire che quello la mi fa col coso è tempo di stare qui e proteggere c'è il leader caduto io devo proteggere il leader a scoppolo stanno arrivando dietro a front come siamo gli unici due assist sono l'ultimo godo sono bestie col cecchino mi ha fatto come avete potuto lasciare che vi sconfiggessero ma si sono le cose che capitano spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima partita spero di farla su deathmats che qui mamma mia ci vediamo Grazie a tutti.